Arbitro di vincere la partita di Coppa Italia con il Cagliari. Una volta c'era solo la tradizione napoletana del caffè sospeso. Adesso a Milano si fa strada l'idea della cena sospesa. Una trentina i ristoranti che partecipano all'iniziativa. Si chiama cena sospesa ed è una singolare reinterpretazione della tradizione napoletana del caffè sospeso, ovvero pagato al bar ad un cliente povero che verrà dopo. L'iniziativa è stata presentata a Palazzo Marino, aderito una trentina di ristoratori milanesi, dove si potranno lasciare contributi in denaro che diventeranno ticket pasto per i bisognosi. I clienti dei ristoranti che nel pagare il conto lasciano, chiamiamola così, una mancia a chi ne ha più bisogno, poi verrà tramutata in buoni pasti e verranno distribuiti ai più bisognosi. Per cui è un modo per sensibilizzare, soprattutto in questo periodo dove di problemi ce ne sono non pochi, ad aiutare anche il prossimo. La cena sospesa è promossa dalla Diocesi di Milano con il patrocino del Comune e sarà realizzata concretamente dalla Caritas Ambrosiana, con la partecipazione di Conf Commercio e la Federazione Pubblici Esercizi. È anche un'iniziativa concreta, discreta e tutta un'altra cosa, per esempio fare una fila per avere un pacco e sedersi a un ristorante, soprattutto chi non ha mai l'occasione di poterlo fare e di avere un pasto una volta. Quindi sarà una piccola cosa, ma è dentro la declinazione di quel tema, nutrire il pianeta, energia della vita. Sono anche queste le cose che bisogna fare. Grazie. Grazie.